lo spumante gaudensius rosè metodo classico etnadoc è fatto dal 100 per cento di nerello mascalese un vitigno molto dinamico poiché se coltivato sull'etna può dare luogo a interessantissimi rossi e rosati ma anche a spumanti metodo classico di altissimo profilo qualitativo noi per fare questo rosato facciamo una vendemmia manuale l'uva va impressa senza essere diraspata e dopo una pressatura veloce riusciamo a fornire al vino questo colore rosa pallido con riflessi quasi pesca un perlage molto fine e molto ben integrato al naso denota i sentori tipici nel nerello mascale seco spumantizzato che sono tipicamente floreali con delle note nette di melograno e di lampone il palato è lunghissimo inizia con delle note molto molto fresche è ben bilanciato con un'interessantissima struttura e una bellissima cremosità è benissimo è benissimo è benissimo è benissimo